Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono Giorgia, una delle rappresentanti degli studenti del corso di mediazione linguistica. Oggi, insieme ai miei colleghi, vi presenterò l'Università di Macerata e nello specifico il nostro corso in disciplina della mediazione linguistica. Iniziamo con il dire che Macerata è una città in misura di studente, dove ci si adatta molto facilmente. Inoltre, grazie all'ERGIS, l'ente regionale per il diritto allo studio, lo studente ha la possibilità di richiedere una corsa di studio, che comprende anche servizio mensa e alloggio, un sostegno economico notevole per le famiglie. Tra le tante opportunità che l'UNMC ha offreso ai studenti c'è quella dell'Erasmus. Abbiamo infatti l'ufficio per i rapporti internazionali, che ogni anno permette un numero di studenti di partire o con Erasmus Studio o con Erasmus Treneship. Io credo che questa sia una delle esperienze più valide che uno studente di migliazione linguistica possa fare, perché quale modo migliore per imparare una lingua se non andando nel posto? Adesso lascio la parola a mio collega Pietro, che vi parlerà dei nostri corsi. Ciao a tutti, io sono Celani Pietro, uno dei rappresentanti degli studenti, e con questo video vi illustrerò le particolarità del corso di laurea in Discipline della Mediazione di Linguistica all'Università di Macerata. Sicuramente una caratteristica fondamentale del nostro corso di laurea è la vasta gamma di lingue che offre, lingue orientali come l'arabo, il cinese e il russo, ma anche lingue occidentali come l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco. Un altro punto di forza del nostro corso di laurea è la possibilità di studiare tre lingue contemporaneamente. Ma vi chiederete, si studiano soltanto le lingue in questo corso di laurea? Ebbene no, perché a fianco agli insegnamenti linguistici trovano spazio gli insegnamenti riguardanti il diritto, l'economia e la letteratura italiana. Che dire ragazzi, con un'offerta formativa del genere io non mi lascerei sfuggire l'opportunità di iscrivermi al corso di laurea in Discipline della Mediazione Linguistica all'Università di Macerata. E adesso lascio la parola alla mia collega Rajà. Ciao a tutti, mi presento, sono Rajà Riai, una delle rappresentanti degli studenti, e sono qui oggi per parlarti degli sbocchi occupazionali che offre la nostra Università di Macerata. Il corso in Discipline della Mediazione Linguistica prepara alle attività professionali di traduttore di testi specialistici, interprete di trattative aziendali e di responsabili dei rapporti internazionali per imprese, enti ed istituzioni pubbliche e private. Inoltre, la nostra Università ti permette di proseguire gli studi nel bienio magistrale in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale. È sicuramente una possibilità da non perdere, quindi unisciti a noi!